Ciao a tutti raga e bentornati su PlayRox Channel in un nuovo e fantastico gameplay di Tomb Raider Allora, mentre vediamo il bellissimo culone di Jonah Io direi di spippolare le ultime cosette E poi dopo direi che possiamo andare perchè alla fine abbiamo spippolato abbastanza insomma qua Credo no? L'unica cosa è che io... Ah cazzo Sempre la solita cosa no? Dicevo, ok L'unica cosa è che porca puttana io vorrei quella cavolo di scatola Ma come cavolo faccio ad andare? Là no Forse con quella Forse con quella ma come faccio però a staccare la cosa? Boh Vabbè Vabbè dai Per il resto la tomba l'abbiamo fatta Abbiamo fatto tutto Io credo Che possiamo andarcene Credo che possiamo andare Vabbè L'abbiamo fatta Grazie. 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 Allora, 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 il nostro obiettivo è là e dobbiamo andare di là, giustamente. Dobbiamo fare sempre le cose un po' a caso di cane. Eh, porca trota però, annaggia. Ok. Bella sta ripresa. Mi è piaciuta. Ci abbiamo la tecnologia, perché non sfruttarla? O no? Eccolo Mattias con Wittmann. L'esigno, dottore. Qu'è pomeriggio? Grazie. Qu'è pomeriggio? Grazie. Grazie. Qualcosa mi dice che dobbiamo andare là. Ma qualcosa, eh. Ciao, Tobi. E niente. Vabbè, l'esimio dottore è crepato. Cosa buona e giusta, direi. E quindi noi dobbiamo andare là, ma non possiamo. Non possiamo dare fuoco a quelle? Sì, che possiamo. No, non è successo niente. Giustamente dobbiamo sempre fare le cose un po' a cazzo di cane. E quindi a cazzo duro noi ci arrampichiamo. Andiamo. Vabbè, andiamo. Dobbiamo cercare se è un master. Or, che miseria. Meglio di no. Oh, ok, bene. Io non avrei acceso la torcia. Porca puttana. E questo fornito. che stanno a fa? beh niente stanno a armare stanno a sistemare un'armatura ah non dobbiamo andare là? ma davvero non mi vedono? a quanto pare tutto ciò come fanno a non vedermi? comunque vabbè non è E giustamente Ma da dove arrivano? Scusate Ma da dove arrivavano le frecce? Vedo se era un luogo chiuso Va bene Va Andiamo avanti Sta il fucile a pompa e niente Ehi Ma perché La pistola Ma 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 Grazie. Exatto. Contraattacco migliorato? Sì. Ok. Shift ed F e stiamo a cavallo. A cavallo! Allora. Il silenziatore... C'è una canna professionale... Non è male effettivamente sta cosa. Ma sì, dai. Perfetto. Lo so, non mi sono dimenticato che dobbiamo sistemare l'arco. E dobbiamo fare... Le frecce esplosive. Oppure... Facciamo le frecce penetranti... Frecce penetranti... Esplosive... O penetranti... Esplosive. Frecce esplosive. Andata. Alla prossima facciamo quelle penetranti. Alla prossima facciamo quelle penetranti. Perché... Noi ripremiamo uno... E sono quelle esplosive, credo. Normali. Infuocate. Esplosive. Cambio. Cambio. Cambio, ok. Vediamo un po'. Vediamo un po' come va. Arcauta nel vento. Oh, cazzo. Ma penso che non ti senta, amica mia. Andiamo avanti. Oddio, sta cosa me la ricordo. Beh, un po' a tutti. Donne il vento. Donne il vento. Madonna, che testata. Porca droga mia. Ehi. Ma... Sì, però... Amica mia, perché te dai? Vabbè, senti. Ehi, mortacci tua. Cazzole. Maledetti. Ma, mi riprendo... Scusate, però... Insomma. Mi riprendo le munizie. Allora. Allora. Cazzole. Oh, cazzole. La nagginata. E... E lo so come si chiama quella alabarda, grazie a Dejove Empires, che io tanto denigro. Non c'è... Oh, cazzole. non c'è nulla qui è la prima volta che stavo con il pad avevo fatto schifo ero morto non si sa quante volte più che altro perché effettivamente con il pad mi rendo conto che è leggermente più difficile mirare leggermente non dico che ah guarda che figata l'uccisione con il coso l'ho pigata le cose? si l'ho pigata allora io vorrei tipo che ne so la no no allora perché me lo dai? va bene eh mi sono suicidato pure io però l'ho ammazzati volevate fare lo scherzone invece vi siete ritrovati bruciacchiati che poi no cioè capisco tutto no dicevo capisco tutto no ma questi qua sono immortali sono stati secoli da aspettare io giustamente li ammazzo con con cose boh non lo so mi mi andava mi andava eeeh la madò da dove cazzo sei arrivato tu dove? ops ma ah ok eh ce l'abbiamo fatta non so manco io come però ce l'abbiamo fatta non mi dire che sono spariti tutti quanti quelli che ho ammazzato perché porca miseria mi arabio finito 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 dai spingiti torcia sei inutile ok e quindi dicevo col joypad è stata veramente durissima e sono morto non se sa quante volte perché insomma era un po' più difficile mirare con il joypad ma perché con l'arpione e niente t'ha voluto salvare il gioco t'ha voluto salvare amiche miei e niente siamo messi super bene con con le munizioni fortunatamente quindi vabbè andiamo al falò vediamo un po' se possiamo fare qualcosa e aspettiamo un attimo non possiamo fare niente ah è vero dobbiamo aspettare 650 no 250 stiamo con lila lila stiamo che ne sai tutto è possibile vediamo un po' se c'è un po' se c'è altro non credo vediamo avanti allora oh e invece e invece si c'è un libricino qua che ci aveva fatto caso è vero è vero che ci ha fatto Te potevi suicidà O no Cioè Scusa eh Fantastico Noi dobbiamo sfondare quella roba là Dobbiamo fare un po' di cose Prima di tutto c'è questa reliquia Mmm Mistero Che ne so Allora Vediamo un po' Se è questa quella che apre la grata E questa quella che apre la grata Perfetto Si sale? Ah si sale Ah ma una gabbia Non me la ricordavo sta cosa Beh noi saliamo Non ce lo facciamo dire due volte C'è C'è un baule E' una mappa credo C'è una mappa E' apriamo sto bauletto Oh Ci siamo Ci sia No Ci sia C'è E' un baule E' un baule E' un baule Fanculo Andiamo a migliorare Andiamo a migliorare E facciamo le fricce penetranti Che penetrano le cose che penetrano Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Era 6,50 Giusto Non 4,60 Merda Vabbè Andiamo avanti Allora Può essere che Sia importante Il fatto che io salga da su Ok Vediamo un baule Sì Ho ragione Ok Ok Vuoi vedere che mo' Devo fare Una cosa del genere E che devo fare Pure questo Così tipo Non credo però E poi come faccio ad arrivare lì Poi Cioè come faccio Da qui magari Oh Top No Decisamente no Quindi Per forza Salire Ok Quindi per forza Salire E poi dopo Devo saltarci Adesso Praticamente Merda Sì ho capito Devo saltare dopo Però sì ho capito Ok Raga Siamo a 29 minuti Di registrazione Io direi Di chiuderla qui E continuare Al gameplay successivo Cioè domani Ma sì dai Ma sì dai Facciamo così Lasciate un like Commentate Oddio Scusate Scusate Dicevo Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi E attivate la campanellina Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao